E' sempre bellissimo indossare questa maglia, per me è un grande onore, ritornare è un qualcosa di speciale, indossare una canota che sogna da bambino è un qualcosa di bellissimo e penso che è una canota che sognano tutti gli atleti. E' sempre bello poter tornare qui e vestire questa maglia, ovviamente l'ultima volta era stato a Tel Aviv poco prima degli europei, quindi adesso torno con grande entusiasmo. E' un rapporto fraterno ma in campo non si è più fratelli, nel senso in campo si è compagni dove se devono volare delle mazzate volano, che sia in Nazionale o che sia a Brescia. E' una cosa speciale vivere questa esperienza con lui, sicuramente molto bella, e sono contento per lui che essere capitano da Nazionale è un qualcosa di veramente bello e se lo merita, quindi sono molto contento di essere qui con lui e fare questo percorso insieme a lui. Sicuramente c'è meno tempo nelle finestre, prima l'europeo abbiamo avuto più di un mese, 40 giorni se non mi ricordo male, quindi bisogna fare tutto più veloce, capire subito cosa vuole l'allenatore e giocare. Sì, adesso abbiamo i primi giorni, sono serviti per togliere qualche tossina della Coppa Italia, poi abbiamo subito iniziato a lavorare per fare questa partita, è molto importante. Cercheremo di fare il massimo, sappiamo quali magari sono i loro punti di forza, che dobbiamo limitare e dobbiamo essere bravi in pochi giorni a sistemare questi piccoli dettagli per provare a fare una grande partita venerdì. La squadra è molto aggressiva, attaccano molto con gli esterni, sono soli fisicamente, quindi queste partite non sono mai facili, come ho detto c'è poco tempo per prepararle, più che altro lavoriamo su noi stessi in questi giorni, e niente, bisogna essere venerdì pronti a scendere in campo e a fare una bella prestazione. Grazie a tutti.